In quel tempo Gesù, uscito dalla regione di Tiro, passando per Sidone, venne verso il mare di Galilea, in pieno territorio della Decapoli. Gli portarono un sordo mutuo e lo pregarono di imporgli la mano. Lo prese in disparte, lontano dalla folla, gli pose le dita negli orecchi e con la saliva gli toccò la lingua. Guardando quindi verso il cielo, emise un sospiro e gli disse E subito gli si aprirono gli orecchi, si sciolse il nodo della sua lingua e parlava correttamente. E comandò loro di non dirlo a nessuno, ma più egli lo proibiva, più essi lo proclamavano e pieni di stupore dicevano Ha fatto bene ogni cosa, fa udire i sordi e fa parlare i muti. Parola del Signore Siano lodati Gesù e Maria Cari fratelli e sorelle, la liturgia della parola di questa domenica si apre con queste parole meravigliose che ci vengono rivolte dal Signore. Dite agli smarriti di cuore, coraggio non temete, coraggio non temete. Non siamo forse cari fratelli e sorelle tutti un po' smarriti di cuore. In un mondo che sembra andare al contrario, in un mondo che sembra votato all'oscurità piuttosto che alla luce. In un mondo dove addominare è l'odio piuttosto che l'amore. In un mondo dove la discordia entra nelle più reconditi e maglie del tessuto sociale, nelle stesse famiglie. La discordia, la divisione e quante prove sotto questo mondo che viene da dire a volte, Signore ma dove sei? Perché non intervieni? Perché tanto male? Perché tanto odio? Perché tante guerre? Perché? E il Signore ci dice coraggio, non temete. E questo coraggio che Egli ci chiede di farci, togliendo ogni timore dal nostro animo, viene dalla speranza. Una speranza che è certezza, certezza del fatto che Dio interviene, che Dio c'è, che Dio è presente, che viene in fin dei conti dalla fede, perché la speranza è frutto della fede. E noi, cari fratelli e sorelle, spesso non siamo forse uomini e donne di poca fede. A volte, troppe volte, siamo lì in attesa di nuove profezie, di nuovi proclami. Chissà cosa sarà, come sarà il futuro, che cosa mangeremo, che cosa faremo. Ma il Signore dinanzi ha un atteggiamento psico-apocalittico come questo. Che cosa ci dice? Non temere. E non ti preoccupare del domani. Non ti preoccupare di ciò che accadrà domani. Perché ogni giorno basta la sua pena. Abbi fiducia. Lui c'è. E allora risvegliamola in noi, cari fratelli e sorelle, questa certezza che Dio è con noi, che non ci abbandona, che è accanto a noi. E anche nell'apparente oscurità e sconfitta e male nel quale possiamo passare, Lui è presente. E da quel male, anche il male peggiore, trae un bene immenso. No? È la sua politica questa. Come ha salvato il mondo? Come ci ha redenti? Attraverso l'apparente sconfitta devastante della croce. A chi lo ha visto lì appeso in croce, ai suoi apostoli, è parso tutto finito. Basta. Abbiamo perso tutto. Gli apostoli di Emmaus se ne andavano e Gesù lo incontrano come un viandante. Che avete? Perché siete così tristi? Ma solo tu non lo sai. Noi ci credevamo, eppure persa ogni speranza, perché ancora non c'era la fede. Ma noi questa fede, cari fratelli e sorelle, l'abbiamo ricevuta nel battesimo. E siamo chiamati ad esercitarla continuamente, perché la crisi del mondo sarà fino alla fine del mondo. Ci sarà sempre un momento di crisi. Ci sarà sempre un periodo più oscuro di un altro. Ci sarà sempre contraddizione dentro la Chiesa, fuori la Chiesa, ovunque, visibilmente. Perché? Perché c'è contraddizione e male nel cuore di ciascuno di noi. È quello il primo luogo dove c'è il male, nel nostro cuore. E come potrebbe non essere al di fuori, visto che siamo tutti malati di malizia in un modo o nell'altro. E anche noi che più o meno ci sforziamo di seguire più da vicino il Signore, non siamo per questo esenti da tutte le miserie umane che ci fanno appunto esseri umani. Per questo il Signore ci dice, rafforzate la certezza che io sono con voi. Coraggio, non temete. Ecco il vostro Dio. Giunge la vendetta, la ricompensa divina. Egli viene a salvarvi. La retribuzione, la provvidenza di Dio, che è la sua azione costante, diuturna, nella nostra vita e nella vita del mondo. È sempre presente il Signore. Soprattutto quando sembra non essere presente, perché è presente nella natura stessa delle cose. Vedete, e qui ci agganciamo al Vangelo. Gli portano un sordo mutuo a Gesù. E Gesù che cosa fa? Fa effetti speciali dinanzi a tutti, platealmente? No. Lo prende e lo porta in disparte, lontano dalla folla. Il modo di agire di Dio è un modo di agire naturale, nascosto nella natura stessa delle cose. Perché Egli è l'autore della natura. Quindi se vediamo effetti speciali, cose strane, rocambolesche... Insomma, dico il Signore, se dubitiamo in quel caso, non facciamo peccato. Perché comunque, che ci crediamo o meno nelle cose rocambolesche e spettacolari, nelle azioni soprannaturali e eclatanti, che ci crediamo o meno, Dio consegue comunque il suo fine. Perché normalmente, Dio può anche agire in modo spettacolare, l'ha fatto, senza altro, però normalmente Dio si serve delle cause seconde e della natura delle cose. A agire in modo spettacolare, eclatante, con fuochi d'artificio ed effetti speciali è il demonio, non è Dio. Il modo di agire di Dio è un modo intimo. Le cose vanno come dovevano andare, nella natura stessa delle cose. E, vedete, per incontrarlo, il Signore ci porta lontano dalla folla, lontano dal baccano, dal quello che pensano gli altri, da quello che vogliono gli altri da noi, dalle opinioni del mondo, di un mondo che non l'ha conosciuto, il Signore non lo vuole conoscere. ci porta in disparte. Per incontrare il Signore è necessario fare silenzio. E allora lì, quando saremo in silenzio, quando ci saremo separati, in un certo modo, dal mondo chiassoso e lontano da Dio, il Signore potrà dire anche al nostro cuore e a noi, apriti, fateci caso, non dice apritevi alle orecchie, dice apriti, perché è tutto l'uomo a essere chiuso, e non siamo anche noi, cari fratelli e sorelle, forse un po' chiusi nelle nostre opinioni, nella grettezza dei nostri giudizi, anzi dei nostri pregiudizi, nelle nostre convinzioni su cosa deve fare o non fare Dio. Io l'ho detto tante volte, un errore che commettiamo tutti è proiettare sul Signore le nostre miserie. E allora ci diciamo, come mai il Signore non agisce in questa maniera? Come farei io, che sono evidentemente migliore a fare Dio di quanto lo sappia fare lui? È un errore, perché grazie a Dio, Dio non ha le mie miserie, è perfettissimo, le sue vie non sono le mie vie. Ripeto, Lui agisce nella natura stessa delle cose, e quindi qui Gesù dice, apriti, e noi ci dobbiamo aprire, cari fratelli e sorelle, ci dobbiamo aprire alla parola di Dio, alla grazia del Signore, alla fede, mettendo via l'uomo vecchio, permettendo al Signore di ricrearci, di farci nuovi, di permettere che sentiamo la sua parola. Vedete, questa parola, il Vangelo di San Marco, mantiene la parola aramaica, effatà, cioè apriti, ed è lo stesso rito che svolgiamo nel battesimo. e dopo effatà si diceva una volta perché tu possa ascoltare la parola di Dio e con quella parola venire alla fede, nutrire la tua fede, possa ascoltare la parola di Dio e farmi interrogare dalla parola di Dio, farmi dire dalla parola di Dio quello che Dio vuole che io senta, non piegare la parola di Dio al mio gusto contro il prossimo. No. Apriti. Ecco, cari fratelli e sorelle, chiediamo al Signore di aprire i nostri cuori, di aprire le nostre orecchie, affinché possiamo accogliere il dono inestimabile di grazia, di carità, di fede, di speranza che Egli ci vuole fare, perché la fede nasce dall'ascolto e la speranza nasce dalla fede. Allora capite quanto è importante ascoltare rettamente la parola di Dio con cuore aperto, scevro, libero dalle catene di un peccato e di un orgoglio che distorce tutto e che piega al proprio gusto quello che noi dovremmo accettare in spirito di umiltà. Quante volte facciamo dire al Signore cose che il Signore non ha detto? Quante volte ci convinciamo di essere giudici infallibili nei confronti degli altri dimenticando che ogni pagina del Santo Vangelo ci dice di non giudicare? Quante volte andiamo contro quel Vangelo nel quale diciamo di credere? Persi nei pensieri della nostra mente come i superbi del Magnificat. Allora cari fratelli e sorelle chiediamo al Signore davvero di aprirci mente, orecchi, cuore e di farci comprendere tutta la profondità, l'ampiezza, l'altezza della Sua parola e di poterla accogliere e in base a questa parola riaccendere la nostra fede, la certezza della Sua presenza, la certezza della Sua onnipotenza, la certezza della Sua onniscienza, tutte prerogative che dovremmo conoscere per il catechismo. Dio è l'essere eterno, onnisciente, onnipotente, immenso, può tutto, è ovunque, è ovunque. E allora di che cosa dobbiamo temere? Cosa ci deve spaventare? Un futuro incerto che Lui non conosce o che può sfuggire alla Sua potenza? Evidentemente no. E allora smettiamola una buona volta di andarci a cercare profeti, messaggi, rivelazioni, altre che non sono il Vangelo, che non è la parola di Dio. San Giovanni della Croce diceva che non dobbiamo andarle a cercare queste cose, non dobbiamo andarle a cercare, perché Dio tutto quello che ci aveva da dirci, tutto quello che doveva dirci ce l'ha detto nell'unica parola eterna che è il suo verbo, Gesù Cristo. lì c'è tutto e quello ci basta per vivere nella fede. E se viviamo nella fede saremo giusti perché il giusto vive di fede. E se saremo giusti saremo santi e se saremo santi vivendo con gli occhi puntati alle cose di lassù, qualunque cosa accada qua giù non potrà ferirci, non potrà farci del male, perché nella fede, nella speranza, nella carità vive di una vita cristiana vissuta e reale, aperta alla grazia di Dio, siamo invincibili, onnipotenti e vinciamo il mondo perché Lui, nostro Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, ha vinto il mondo e in Lui, con Lui e per Lui lo vinceremo anche noi. Siano lodati, Gesù e Maria. Sì, Gesù e Maria. Siano lodati, Grazie.